Musica Contratti in scadenza e figure sanitarie nel limbo su Fanu TV parla l'assessore Filippo Salta Martini la regione ha detto è disponibile a remunerare il personale con fondi propri, rassicurazioni anche sugli spostamenti del personale in vista della riforma. Bici rubati a Pesero pubblicate oltre 100 foto sul sito del comune, ecco come fare per recuperarli. Commemorazione dei defunti, l'omelia del Vescovo Trasarti nella Santa Messa al cimitero urbano, un comune che non cure i cimiteri e un comune senza memoria. Le nostre radici sono qui, servono riconoscenza e verità. Nuovo asilo a Bellocchi di Fano, in arrivo 1.400.000 euro dal PNRR, sarà realizzato accanto alla scuola elementare Tombari. Detto al contante, verso la soglia di 5.000 euro i fanesi favorevoli alla proposta di legge depositata dalla Lega. Non lo so, io penso che forse la cifra potrebbe essere 5.000 euro, ecco diciamo intermedia tra le varie proposte, tra nazioni che non hanno nessun limite e nazioni che hanno un limite anche inferiore ai 2.000 euro. Fano TV, avvenuto ufficialmente il passaggio della proprietà alla nuova squadra al lavoro per creare un nuovo palinsesto e far sì che l'emittente televisiva regionale diventi ancora più la voce e l'immagine di tutti al servizio della comunità. Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. In primo piano i contratti in scadenza del personale sanitario e le diverse preoccupazioni legate alla riforma in atto. Dopo la nostra intervista al sindacato di riferimento è arrivata la risposta dell'assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini. Lavoro con carenza di personale, turni massacranti, riposi saltati e doppie notti. Dopo le tante difficoltà affrontate dagli operatori sanitari anche durante l'emergenza Covid, si sono aggiunti dubbi e preoccupazioni sul destino dei loro contratti in scadenza al 31-12. A rischio 400 dipendenti nelle Marche e quasi 200 nella provincia di Pesero Rubino tra Marche Nord e Area Vasta 1. Nei giorni scorsi Massimo Ragni della funzione pubblica CGL aveva annunciato forme di mobilitazione se non fossero arrivate risposte adeguate e soluzioni da parte della regione, con la quale i sindacati avranno un confronto il prossimo 8 novembre. Alcune rassicurazioni però sono già arrivate dal vicepresidente e assessore alla sanità Filippo Saltamartini che abbiamo incontrato a Palazzo Raffaello. I contratti sono stati appunto rinnovati fino al 31 dicembre perché questo è il personale assunto durante gli anni del Covid e tuttavia per poterli trattenere in servizio occorre che sia rispettato un tetto di spesa, che è un tetto di finanza pubblica e se non viene rispettato il tetto di spesa si ledono le norme di diritto internazionale, addirittura i trattati dell'Unione Europea e quindi questo non è possibile. Però finora siamo riusciti a trattenere tutto in servizio quindi non credo che ci possano essere problemi di questa natura. Naturalmente questo per quanto riguarda la regione Marche proporrà al governo anche se mantenere in servizio questo personale significa superare il tetto della spesa pubblica, come ho già detto questo limite, la regione è disponibile a remunerare i trattamenti di questo personale con fondi regionali. Quindi proporremo al governo di autorizzarci nell'ipotesi in cui il costo per questa retribuzione dovesse superare quella soglia di remunerarle appunto con i fondi della regione. Però non credo che ci sarà la rivoluzione insomma su questo tema, tanto più per il fatto che queste persone sono molto preparate, hanno acquisito un'allevatissima professionalità e servono a garantire il recupero delle prestazioni che durante il Covid sono state compresse. Nessuno ha proseguito Saltamartini, dimentica che ci sono liste d'attesa che vanno sfoltite. L'assessore poi è intervenuto sui due tipi di stabilizzazioni. Quella legge di Maria il bando si fa ogni sei mesi e per quelle stabilizzazioni Covid si fanno secondo delle procedure ben stabilite. Quindi il problema, il tema non è la volontà della regione di trattenere questo, anzi noi dobbiamo assumere molti più infermieri. All'inizio del mio mandato dissi che i 3.000 infermieri che sono in una graduatoria della regione Marchio dovrebbero essere assunti tutti. Il limite è appunto questo della spesa pubblica che riguarda non solo il sistema sanitario ma anche la scuola. Però ritengo che la sanità in questo momento sia la priorità del nostro paese e mi auguro che il nuovo governo ci autorizza non solo a trattenere questo personale ma ad aumentare, a rinfoltire i nostri reparti appunto per garantire quella sanità di eccellenza e di qualità che tutti gli italiani meritano. Molte figure sanitarie sono preoccupate in vista della riforma, di un eventuale spostamento tra le varie strutture e questo potrebbe essere possibile? La rivoluzione della riforma consiste essenzialmente nella riorganizzazione con gradualità, non con spostamenti di masso o di professionalità, con l'adeguamento delle strutture alla domanda. In particolare nell'area vasta 1, la provincia di Pesaro, in cui c'erano due aziende, noi dobbiamo garantire che i pesaresi, i cittadini della provincia di Pesaro e Urbino, possano curarsi nella loro provincia e non andare a curarsi invece come avviene purtroppo oggi nella regione Emilia Romagna. Abbiamo tutte le condizioni per garantire la qualità delle prestazioni, la professionalità e soprattutto la prossimità. A Pesaro, in un capannone di Via Toscana, sono state ritrovate numerose biciclette rubate. L'operazione è stata portata a termine dalla Capitaneria di Porto e dalla Polizia Locale, che ha posto sotto sequestro i veicoli a due ruote. Si tratta di circa 100 esemplari, di cui alcuni in buono stato di conservazione, che potrebbero essere riconosciuti dai legittimi proprietari. Per questo, in accordo con la Procura della Repubblica, che sta coordinando l'indagine, il Comune di Pesaro ha pubblicato su sito istituzionale tutte le fotografie dei veicoli. Qualora il proprietario la riconoscesse, munito di denuncia di furto depositata prima del 20 maggio 2022 e di quant'altro possa essere esibito, ad esempio fotografie pregresse, può recarsi nel comando di Polizia Locale. Il proprietario del capannone invece è stato denunciato per ricettazione. Cambiamo argomento perché in occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti, questa mattina al cimitero urbano di Fano è stata depositata una corona d'oro al cipo dei caduti in guerra ed è stata celebrata una santa messa preseduta dal Vescovo Trasarti, Vescovo che ha parlato di cura dei cimiteri, di giovani, di meriti e di parità degli uomini nella morte. C'era per noi Filippo Pucci. Al cimitero centrale di Fano questa mattina si è celebrata la ricorrenza del 2 novembre, la commemorazione di tutti i fedeli defunti. A prendere parte alla santa messa preseduta nell'area della tomba dei militari caduti nella Prima e Seconda Guerra Mondiale, il Vescovo della Diocesi di Fano, Fossombrone Cagli Pergola, Armando Trasarti, insieme al Rettore della Basilica di San Paterniano, Padre Giuliano Viabile. Fin dalle prime ore molte persone hanno fatto visita al cimitero per portare un saluto e un pensiero ai propri cari scomparsi e che sono rimasti anche alla funzione dove erano presenti le cariche civili e quelle militari. Un popolo che non cura i cimiteri è un popolo dissennato. Un comune che non cura i cimiteri è un comune senza memoria. Questa è la tradizione anche romana. Cimiteri e gli anziani, le radici. D'altra parte, su una pianta di valore, prima custodite il terreno sotto, poi andate a potarla sopra. Questo è un problema delicato, lo si capisce soprattutto nelle generazioni giovani, nelle nazioni giovanissime. Mi diceva un Vescovo del Congo che hanno l'età media 24 anni, è delicatissima, che non hanno storia alle spalle. E allora anche il culto della storia è importante, studiare la storia, rileggere la storia per capire il presente. Anche perché i tempi passati sono stati anche sacrificali. Di fronte a sacrifici di oggi, vedere come loro l'hanno portati, significa anche avere un'energia in più. Che non vuol dire ripeterla, ma prenderne lo stile. Successivamente, il Vescovo ha parlato di parità degli uomini nella morte e poi dei giovani. Se la morte ci fa tutti uguali, il merito è in funzione del bene dei tutti, non solo individuale. E il merito diventa forza di comunione e non di supremazia. Nello stesso tempo, non dobbiamo deratizzare il merito, le capacità, le generosità, eccetera. Perché abbiamo bisogno di punti di riferimento, di esempi. Esempi positivi, anche eroici qualche volta. Per sopravvivere nelle nostre piccolezze. Però poi avere quell'equilibrio di poter dire anche i grandi muoiono. Anche l'uomo di merito poi deve avere il rapporto con la fragilità, con la morte, con la malattia. Quella è di tutti. Dopo ecco, questa giornata è anche importante perché purtroppo mancano molti giovani ragazzi. Per capire che la vita nostra nasce prima di noi. Le radici sono nei cimiteri. Capire una storia che ci ha cresciuto, una storia che ci ha accodito, una mentalità. Sapori anche di sacrificio che noi facciamo fatica a sopportare. Nei nostri padri questo è importante. Riconoscenza ma anche verità. Cioè non siamo figli di nessuno. Figli di un tempo e di persone nel tempo. Che non sarà ripetuto in maniera omologata. Però le radici servono perché in tempi diversi certe virtù di alti tempi ci aiutano a soggiogare il tempo e non farci soggiogare. L'Associazione delle casse di risparmio e delle fondazioni di origine bancaria, Acri, ha deliberato un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro in favore delle popolazioni colpite dall'alluvione che si è abbattuta nelle Marche nel mese di settembre. Il fondo sarà gestito da un comitato operativo costituito dalle quattro fondazioni di Fabriano, Fano, Iesi e Pesaro. È stato deciso di devolvere il 100% dell'importo direttamente alle famiglie che hanno subito gravi danni all'abitazione principale attraverso la fondazione Caritas Diocesana di Senigallia Onlus. Che in coordinamento con le altre Caritas operanti sui territori colpiti dal drammatico evento ha eseguito una precisa mappatura dei danni subiti da ogni singola famiglia. Questo consentirà alle persone di ricevere il contributo entro la fine del mese di novembre. Ci sposiamo a Bellocchi di Fano perché l'amministrazione comunale ha annunciato la realizzazione di un nuovo asilo nido accanto alla scuola elementare grazie a un finanziamento di quasi 1 milione e 400 mila euro. Nel quartiere di Bellocchi sorgerà una nuova scuola dell'infanzia. Il comune di Fano si è infatti aggiudicato un finanziamento del piano nazionale di ripresa e resilienza per la realizzazione di una nuova struttura che consentirà un ulteriore potenziamento dei servizi educativi. Una grande occasione con la quale sarà possibile dare una risposta a tutte quelle famiglie che fino ad oggi erano costrette a servirsi di asili nido ubicati nel centro città. Oggi una nuova notizia importante è stata finanziata con la nostra copartecipazione, una nuova opera importante, una scuola dell'infanzia 0-3 anni. Ci tengo a sottolineare e rimarcare questo aspetto perché questo sta dentro una nostra politica di estensione del servizio che è caratterizzata da un percorso ormai di anni di questa città ma con questa nuova opera che ovviamente vedrà la luce nell'arco di alcuni anni è la conferma di una strategia che cerca di chiudere il cerchio di servizi rivolti ai bambini 0-3 anni e alle loro famiglie in tutta la città. In questo caso è un quartiere popoloso come quello di Bellocchi che si integra con altri interventi già programmati e che aumenteranno e miglioreranno la qualità dei nostri servizi. La struttura verrà realizzata entro il 2026 in un terreno di proprietà pubblica ma la vera sfida, ha precisato l'assessore Brunori, inizia oggi perché dovrà essere individuato soggetto vincitore dell'appalto entro il 31 marzo 2023. Siamo già impegnati in questa direzione, ha aggiunto, affinché con celerità vengano rispettate le tappe di questo percorso. Infatti le risorse legate al PNRR necessitano di velocità e di una tabella di marcia molto stringente ad entrare nei dettagli l'assessore Mascarin. Il finanziamento che con il decreto 74 del 26 ottobre il Ministero dell'Istruzione ha riconosciuto il Comune di Fano ci consente un investimento veramente molto importante, un finanziamento di 1.392.000 euro per realizzare un nuovo servizio di nido nel quartiere di Bellocchi a fianco dell'attuale scuola primaria Tombari. Un intervento importante non solo per quel quartiere ma per tutta la città perché si parla di tre sezioni, quindi 45 bambini che potranno essere ospitati in questa parte strategica del nostro territorio, aumentando di circa il 20% la capacità di accoglienza dei servizi di nido comunali su tutto il territorio di Fano. Una bella notizia per Fano, una bella notizia per Bellocchi e un riconoscimento chiaramente al Comune di Fano che ha avuto la capacità di mettere in campo un progetto valido che è stato riconosciuto come tale e di fare ancora una volta una scelta di investimento pubblico molto importante per rimettere i servizi educativi al centro dello sviluppo della città. Intanto Bellocchi questa mattina sono partiti lavori di asfaltatura fino a giovedì 10 novembre. Rimarranno in vigore delle modifiche alla viabilità perché verrà asfaltato il tratto dalla rotatoria di via Campanella e la strada a Chiaruccia a salire verso il cavalcavia della superstrada e verso la Saipem, rotatoria esclusa. Sarà garantito da Rosciano il senso di marcia in ingresso alla zona industriale, quindi dal Codma alla Saipem, mentre sarà interdetto il senso di marcia opposto in uscita dalla zona industriale verso Rosciano. Sarà interdetto anche il transito lungo la strada comunale Petruccia, quindi la strada a senso unico sul retro della Saipem che si collega al cavalcavia con obbligo di svolta in via Turati. Anche questa sera diamo spazio alle vostre segnalazioni. Partiamo dalle fotografie scattate da un nostro reporter nell'area dello skate park a Sant'Orso di Fano dove ci sono pannelli imbrattati, rifiuti gettati a terra, tombini pericolosi e addirittura scarpe da ginnastica sugli alberi. Anche l'altalena è rotta da ormai qualche mese, ha scritto il telespettatore, eppure ha commentato Fano è la città dei bambini. Invece dal comune di Monsano, in provincia di Ancona, un residente segnala una grossa buca di circa 80 cm di diametro e profonda 30 sul ciglio della strada provinciale della Barchetta, una situazione molto pericolosa soprattutto di notte. Torniamo a Fano per mostrarvi le foto che ci hanno inviato due diverse reporter. Questa ci hanno precisato è la visibilità ridotta al minimo dello spartitraffico che da Sant'Andrea in Villis porta a Fenile. È pericoloso, hanno precisato, perché si è costretti ad avanzare con il proprio mezzo e si rischiano incidenti. Adesso ci occupiamo di uno dei temi più discussi di questi ultimi giorni, ovvero quello del tetto al contante, cioè il limite entro cui è possibile effettuare transazioni con il denaro contante, che il governo è intenzionato ad aumentare a 5.000 euro. Sentiamo allora il parere dei fanesi nelle interviste che ha realizzato Cristiana Guerra. Un progetto di legge che in questi giorni fa discutere è quello della Lega che vuole alzare il tetto dei contanti dai 2.000 euro ai 10.000 euro, poi adesso probabilmente si parla anche di 5. Lei che cosa ne pensa? È un discorso un po' complesso, bisognerebbe conoscere in dettaglio le varie situazioni, nel senso che sicuramente ci sarà una cifra che è di equilibrio e che dà la possibilità a chi utilizza il contante di poter operare con tranquillità e dall'altra parte di essere una buona trincea di difesa contro l'evasione fiscale o quant'altro. Non lo so, io penso che forse la cifra potrebbe essere 5.000 euro, diciamo intermedia tra le varie proposte, tra nazioni che non hanno nessun limite e nazioni che hanno un limite anche inferiore ai 2.000 euro. Secondo lei potrebbe riaumentare l'evasione fiscale? Ma sai, sull'evasione fiscale in realtà poi nessuno la vuole colmattere, realmente, con la moneta elettronica e la scomparsa del denaro allora in qualche modo certe sacche potrebbero essere eliminate, dopo la grandissima evasione lasciamo perdere, anche perché più di evasione lì si tratta di allusione, leggine che consentono di non dichiarare, allora tu non puoi agire solo sull'evasione pura ma devi agire anche sull'illusione, l'illusione, cioè tutti quei comportamenti legittimi che ti consentono in qualche modo di ridurre l'imponibile. Lei che cosa ne pensa? Io direi di essere contrario, 3-4.000 euro ci sta, ma 10.000 adesso, non so, dice che lo fanno per gli operai, adesso mi sembra strano che un operario vada via, ma neanche col portafoglio, con una valigetta perché 10.000 euro in contanti. Ma secondo lei invece l'evasione fiscale potrebbe aumentare in questa maniera, aumentando quindi il limite dei contanti? La politica, voglio evitare, hanno messo il limite dei contanti a 2.000 euro ma l'evasione fiscale c'è uguale, quindi sicuramente non è questo il problema, secondo me. Per quanto io ne pensi non sia molto comodo girare con 5-10.000 euro in tasca, in contanti, però ognuno dei propri soldi ne può fare quello che crede, penso se uno gli piace, gli gusta portarselo, tenerli in casa, li tenga. Per quanto riguarda l'evasione, l'evasione non avviene con queste piccole somme che siano 5-10, viene alla fonte dove si producono le cose, artigiani e commercianti hanno gli studi di settore, che i soldi li guadagnino o non li guadagnino, un tot di tasse li devono pagare, quindi non è quello che incentiva l'evasione, sono altre cose. Lei innalzerebbe il limite del contante, sì o no? Ma io lo innalzerei fino a eliminarlo completamente. Mai? Perché secondo me spostarlo di qualche migliaia di euro cambia poco, io sono convinto che come in altri paesi in Europa bisognerebbe toglierlo definitivamente il limite. Un vantaggio per tutti secondo lei? Secondo me sì, ne gioverebbero i commercianti, i privati e muoverebbe un po' l'economia. Domani alle 18.30 in piazza 20 settembre a Fano si terrà un flash mob contro la guerra. Dopo otto mesi, si legge in una nota di incomune, è arrivato il momento di invertire la rotta per costruire una pace stabile e duratura in Europa. Non è vero che non si può fare nulla, si possono sostenere concretamente le popolazioni civili colpite dal conflitto e si può scendere nelle strade e nelle piazze per chiedere alla politica di tornare protagonista per affermare le ragioni della pace. Lo sport con l'esercito di 350 atleti che ha partecipato il primo novembre alla 47esima edizione del trofeo Festa Nazionale del Tartufo di Acqualagna, il primo dedicato alla memoria di Edmeo Conti. A vincere la gara è stato il fanese Andrea Cappellacci, tesserato con la formazione civita novese del Fonte Spina. È stata una finale di grandissimo interesse che ha confermato il talento di una delle più grandi speranze delle bocce nazionali e marchigiane, l'appena 15enne Riccardo Giacomoni della bocciofila San Cristoforo di Fano. Alla sua prima finale a livello Signores, Giacomoni si era portato in vantaggio per 3-0, ma alla fine l'esperienza di Cappellacci ha fatto la differenza e l'atleta del Fonte Spina si è imposto per 12-4, terzo posto per Alessio Foglia di Passoripe. E prima di salutarvi vi comunico che è avvenuto ufficialmente il passaggio della proprietà di Fano TV. Dunque credo sia doveroso ringraziare sia il fondatore Marco Ferri che ha deciso di lasciare l'emittente televisiva, sia il gruppo di persone che ha preso le redini e ha già iniziato questo nuovo percorso. Vi proponiamo con l'aiuto della grafica i nove esponenti della società civile, dell'associazionismo e del volontariato che hanno portato a compimento il passaggio e che hanno scelto come direttrice responsabile dell'emittente. Gino Bartolucci è stato eletto presidente dell'Assemblea dei Soci, Michele Brocchini vicepresidente, Stefania Bernabucci segretaria, Monica Vitali tesoriera. Sono consiglieri invece Saverio Olivi, Arido Severi, Michele Sorce, Roberto Taus e Giancarlo Torcoletti. Ora siamo a lavoro per creare un nuovo palinsesso per far sì che Fano TV diventi ancor più la voce e l'immagine di tutti, una TV a servizio della comunità. Per fare questo abbiamo logicamente bisogno anche del vostro aiuto. Dunque, come sempre, potete mandarci le vostre segnalazioni corredate da foto o video al 338 4968 250. Grazie per aver seguito anche questa sera Occhio alla Notizia. L'appuntamento con informazione torna domani mattina in diretta alle 7 con la nostra rassegna stampa condotta da Massimo Foghetti. Buona serata a tutti. Grazie a tutti.